L'ematologia è un lavoro di squadra. Questo è il titolo del convegno che raccoglie le eccellenze pugliesi e italiane nel polo universitario dell'ospedale di Miccoli di Barletta. Quale valore aggiunto questi convegni offrono nella pratica alla ricerca? Il valore aggiunto è quello di rendere noto anche ai non strettamente addetti ai lavori la possibilità che oggi l'ematologia è una disciplina che richiede un grande lavoro di squadra. Queste nostre malattie, le malattie di cui noi ci occupiamo, offrono la possibilità attraverso le maggiori conoscenze alle quali si giunge proprio con uno stretto rapporto di collaborazione con gli altri specialisti di avere ormai una terapia personalizzata per ognuno dei pazienti. Per ottenere questo risultato appunto c'è bisogno di una stretta forte collaborazione fra il laboratorio, il radiologo, il chirurgo e ovviamente l'ematologo che è l'attore principale di questa scena per poter proporre terapie sempre più efficaci e sempre più adattate alla singola malattia in quel paziente. Con questo evento abbiamo voluto rafforzare ancora di più il concetto che in questo ambito della medicina in particolare ma in generale direi che in ogni tipo di approccio dedicato al paziente è necessario che venga utilizzato appunto un approccio multispecialistico, multitask che insieme migliora le performance di ogni singolo protagonista di questo circolo. L'equip permette di ridurre la soglia di errore tanto in quella che è la diagnosi quanto nella terapia? Oltre a questo permette di definire nella maniera più precisa possibile la diagnosi perché dalla definizione di questa diagnosi dipende oggi e questo è il più grande avanzamento dell'ematologia degli ultimi vent'anni la possibilità di curare in modo diverso cioè una malattia che abbia una sfumatura diversa rispetto ad un'altra a un farmaco diverso e questo è importantissimo.